E allora buongiorno, buongiorno stronti, e voglio dire buongiorno carissimi, buongiorno amici, benvenuti, iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti, condividete questo importante video con tutti i tifosi della Viola che conoscete, seguite i network amici, devastate di like su questo video e mi raccomando guardate i video già fatti. In primis la live di ieri sera col Valeriani che ha dato spettacolo, il Bruni, abbiamo parlato di Fiorentina, di Mandragora, di tante altre cose, i video vecchi e specialmente una sciccheria che è il cattomercato del Venezia di quest'oggi, veramente abbiamo costruito una sciccheria, recuperatene e godetene tutti. Io sono anche reduce da una chiamata che mi ha scioccato, di un folle, una persona con dei problemi evidentemente, un pontatinatore folle. Come ho scritto su Instagram, mi ha richiamato 20 minuti di pontatine, di lucida follia a mitraglia che mi ha veramente incaprettato e domenica lui ha preteso che nel mentre io registrassi, domenica avrete questo tipo di cosa veramente che non so neanche come definire, non so solo che sono rivoltato come un calzino. Però detto questo è anche successo che sembra che per Dodò sia fatta, si legge 14 milioni e mezzo circa più 3-3 e mezzo di bonus. Io sul giocatore mi sono già espresso in diversi luoghi, in diversi laghi, ne abbiamo già parlato anche là, però è giusto che quando un giocatore arriva poi io faccio un nocciolo, no? Vado a dare una sintesi definitiva, una sentenza su questo tipo di operazioni che la Fiorentina fa e io vi dico che è una ottima operazione per me. Questa, così come mi fomenta Jovic, mi fomenta anche Dodo, non so come si dica, ma in ogni caso è un giocatore che mi piace, è un giocatore che rappresenta anche, ve lo dico in serenità, un upgrade rispetto a Driozola, che ritengo un buon giocatore per carità, ma non è che mi abbia mai fomentato in particolar modo. Ecco, invece Dodo mi piace di più. Dodo è un giocatore più anche atletico, più prorompente, più arrogante, più di garra, più cattivo, più determinato. Mi piace di più, è veramente un giocatore che tra l'altro ha fatto anche la Champions con lo Shakhtar, è un giocatore che era attenzionato da grandi club, perché su di lui c'era il Bayern, c'era il Barcellona. Si è fatta un'operazione a dei costi non insignificanti per quello che è un nostro club, ma a dei costi per me che comunque rientrano in quello che è il valore del giocatore. Anzi, non mi stupirei se proprio con un allenatore come Italiano, che è bravissimo con i terzini, veramente un ruolo che lui valorizza alla grandissima, specie se il materiale è a disposizione e di qualità, ecco, non mi stupirei se Dodo rappresentasse a suo modo un cespite, una possibile plusvalenza, un giocatore anche che ti fa tesoretto, oltre che tecnico, anche economico. Dodo è uno che farà molto bene, per me ci farà divertire e soprattutto mi aspetto e credo che arerà la fascia, cioè mi aspetto tanta velocità, tanta determinazione, scatti brucianti, tanto atletismo, questo penso che avremo, questo mi aspetto e perché no anche un pizzico, nonostante la giovane età, di esperienza internazionale che non fa mai male. Quindi è un'operazione che a me piace molto, un'operazione che vado a promuovere, anzi per certi versi rispetto a Jovi c'è anche un'operazione più in stile fiorentina, il classico fiorentina tradizionale, il classico giovane, il classico cespite che ti vai a portare a casa, che valorizzi, che puoi inserire in un sistema di gioco che funziona. Ecco, Dodo penso che sia un ottimo nome per il terzino. Ieri ho sentito, vi ripeto, come ho detto ieri, Barone che ha parlato anche della fascia sinistra, io sono completamente d'accordo con lui, mi è anche piaciuto che abbia parlato di Terzic, che non so perché sia presentato come uno, come un impresentabile, come un guitto, come qui, io invece Terzic me lo tengo da conto, mi tengo da conto soprattutto Biraghi, che giustamente è capitano titolare, ma io Terzic prima di bocciarlo così fa bene, la società, anche se su Zurkowski si poteva essere, secondo me, ancora più sicuri e pretenziosi, ma fa bene la società quando dice, no, ma che mercato prendere, abbiamo gli Zurkowski, abbiamo i Terzic, e sono tutti cespiti, è tutta gente che tu devi andare, e che anche l'allenatore deve andare a valorizzare, deve andare a inserire, deve andare ad includere, se no facciamo ogni anno una rivoluzione copernicana di 20 giocatori, dobbiamo prendere le alternative delle alternative, perché le stesse alternative magari non vanno bene. No, va bene così, questo per dire cosa? Che sulla fascia destra siamo a posto? Teoricamente sì, nel senso che io credo, spero e sono convinto che Dodo faccia tante partite, cioè era il discorso che vi facevo per esempio quando si parlava di Molina o di Terzini così, cioè se tu hai il Dodo, il Molina, cioè il giocatore forte, che su 38 partite vuoi che te ne faccia, e speri te ne faccia 50, va bene anche venuti come riserva, ok? Però sottoscriviamo, questo è stato molto chiaro, che il Dodo di turno deve fare più partite possibili, ok? Quindi da questo punto di vista qua potremmo essere a posto. Poi se si decide di fare l'avvenirismo, di promuovere a riserva di Dodo, un altro gran bel cespite, che è la parola dell'estate 2022, che ci abbiamo in casa, che è il signor Ferrarini, che è fortissimo, ma a me va benissimo. Sarebbe un'operazione quella di avere una catena di destra, diciamo nei Terzini, Dodo-Ferrarini, mi va benissimo, visual, vision, futura, coraggio, ci sta da Dio anche come scelta, poi vuoi tenere venuti? Va bene, tieni venuti. Però ripeto, va bene Dodo, ma occhio anche a Ferrarini, che abbiamo un bel giovane in casa con Ferrarini. Dodo è un'operazione che fin da quando è uscito il nome, vi ripeto, ne ho parlato bene, ma io vi dico la verità, sui Terzini non sono preoccupato. Poi domani magari vedo se riesco ad intercettare, l'ho sentito prima, vediamo, perché domani potrebbe essere una giornata calda anche per un altro giocatore, vi do questa pepita di insiderismo, però ho sentito Giannatasio e magari domani pomeriggio facciamo una live calciomercatistica insieme a lui. Dicevo, io sul ruolo dei Terzini non ero preoccupato, perché per me a sinistra siamo già a posto così. Sulla destra devo dire che il nome di Dodo è venuto fuori praticamente subito dopo la fine del mercato, scusate dopo la fine della stagione sportiva è venuto fuori subito e soprattutto è un ruolo nel quale il nostro mister non ha mai avuto problemi, anzi è sempre stato un grande valorizzatore. Quindi benvenga Dodo, benvenuto, per me farà molto bene, ci siamo sistemati sulla fascia destra. Con Jovic siamo anche a posto a livello per me di centravantistica, vedremo il discorso dell'esterno alto, domani probabilmente ci scriverò su fiorentina.it in merito, vedremo cosa succederà in difesa, voglio lasciarvi con un po' di perplimazione e preoccupazione, poi magari ne parliamo anche stasera. Il reparto che voglio un po' tenere sott'occhio, che un po', ecco, bisogna anche essere bravi a tenere sott'occhio, a decodificare, a vedere cosa succede al centrocampo, perché quello è un reparto che mi perplime già un po' di più, perché vi devo dire che Mandragora, vabbè, è arrivato, benvenuto, tutto quanto, lo supportiamo, però onestamente adesso voi mi cagherete nel capo, però vi voglio lanciare una nocchettina. Ma ho visto Oliveira che è andato al Galatasaray per due spicci, ve la lancio così, tra capo e collo, ma faceva così schifo nel momento in cui non hai riscattato Torreira e c'ho ancora un po' una ferita nel cuore, nel momento in cui Grilish anche è saltato, Monsergio Oliveira è il luogo di Mandragora, avrebbe fatto schifo, io vi dico la verità, a me no, poi vabbè, è arrivato Mandragora, vedremo cosa riuscirà a fare. Dicevo, centrocampo un po' mi perplime, perché devi vedere come assorbi la situazione Torreira, devi vedere se arriverà qualcun altro, Castrovilli che starà fuori, bisognerà vedere Zurkowski che cosa si deciderà di fare, quindi quello è un reparto che mi perplime un po' di più e nel quale magari si è andato a complicarti un po' più la vita. Però vi devo dire la verità, se si parla del discorso centravanti, se si chiude Jovic, a me va benissimo, mi gasa, sono contento dell'arrivo di Luca, spero si ufficializzi anche presto, che così ci si diverte, che è anche un bel annuncio da dare, penso a quello di Jovic. E su Dodo sono assolutamente anche su questo contento, anzi vi dico, io penso che abbiamo fatto un upgrade, e non tanto per il fatto che Odriozola era in prestito, per carità di Dio, secco, ma per il fatto che comunque anche Pradelli l'hanno chiesto e lui ha detto, ma ha saltato, non mi ricordo se Barone o Pradelli che l'ha detto, che ha saltato praticamente un sacco di partite, oltre a quello, e poi comunque non è che mi coinvolgesse così come ha coinvolto magari altre porzioni di piazza, ecco, quindi per me abbiamo fatto un upgrade, insomma, non dico un bel upgrade, perché comunque non è che Odriozola fosse scarso, però tra Dodo e Odriozola mi piglio tutta la vita a Dodo, specie per età, per il fatto che è nostro, comprato, giocatore forte, e per me, guardate, sulle fasce, se rimaniamo così siamo a posto, se poi decidi anche di dar fiducia a Ferrarini in luogo magari divenuti, sarebbe un futurismo non essenziale, per carità, si può andare avanti così, ma apprezzerei il coraggio. Ditemi cosa ne pensate su tutto, un caro saluto, ciao, e guardatevi tutti i video fatti, se no mi incazzo, e andate a devastarli di like.